Nella manovra finanziaria 2024 stanziamo risorse che portano il Fondo Sanitario Nazionale a una cifra record e che rappresentano un'iniezione di ossigeno per un sistema reso sofferente da anni di tagli lineari. Lo ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio video inviato al Forum Risk Management in Sanità in corso ad Arezzo. Un finanziamento finalizzato a ridurre i tempi delle liste d'attesa e a migliorare la retribuzione economica del personale sanitario perché vogliamo che i nostri operatori restino nella sanità pubblica. Sul tema della mancanza di medici ed infermieri la Regione Toscana ha approvato una delibera che consente ai medici che non hanno la specializzazione in emergenza urgenza di accedere al concorso dopo tre anni di permanenza. Nel 118 per la Toscana arriva inoltre una novità, un numero unico, sanitario, per tutto ciò che non è emergenza. 116-117, proprio ieri abbiamo avuto l'autorizzazione, questa è una notizia, del Ministero della Salute, per tutto ciò che non è emergenziale. Necessità di ricorrere all'accesso al medico di famiglia, alla guardia medica, a un'assistenza di natura infermeristica, a un consiglio su un farmaco o una reazione avversa di un farmaco, oppure per capire se necessita accedere a percorsi di riabilitazione o di inserimento in un RSA oppure in un ospedale di comunità. Il numero 116-117 sarà attivo, risponderà H24, sette giorni su sette. Tra i temi è anche l'assistenza alle persone fragile e malati cronici, che grazie alle nuove tecnologie dovranno essere sempre di più gestiti a domicilio per evitare di affollare il pronto soccorso. Attenzione alla fragilità vuol dire prima di tutto prevenzione, prevenzione ad esempio vaccinale, perché ormai con i vaccini si possono tenere sotto controllo molte patologie, prevenzione degli screening e in qualche modo riorganizzare i percorsi clinici assistenziali per cercare il più possibile di tenere le persone fragili anche a casa, a domicilio. È chiaro che la telemedicina, con quello che può consentire di televisita, telemonitoraggio e telecontrollo, è uno strumento fondamentale. Il ministro Schillaci, a conclusione del suo intervento, ha definito strategici e necessari i temi affrontati proprio dal forum RISC per una riforma reale. I temi al centro di questo forum sono senza dubbio tutti i tasselli necessari e strategici nel processo di cambiamento che stiamo portando avanti. Un percorso di riforma che per essere reale deve essere partecipato e condiviso.